Dopo quattro mesi di attesa, la mozione del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle sul Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione è arrivata nell'aula del Consiglio Comunale. Era stata depositata a gennaio, poco prima di partire per Roma e manifestare dinanzi al Ministero dello Sviluppo Economico. Adesso la Siste Civica l'ha approvata in maniera corale e finalmente l'amministrazione è stata politicamente impegnata ad avviare le procedure per reperire i fondi collegati a questo importantissimo strumento di sostegno comunitario. Lo dicono in una nota i consiglieri Grillini, Enzo Giudice, Virginia Farruggia, Angelo Amato e Simone Morgana. Il FEG è un fondo europeo che consente ai territori in crisi di poter avviare politiche attive di sostegno al lavoro, quindi non mero assistenzialismo passivo che rende i lavoratori schiavi delle promesse di una politica distratta, ma uno strumento concreto che finanzia, tra le altre cose, la formazione dei lavoratori per nuove attività e l'apertura di nuove imprese. In parole povere, il FEG consente di determinare sviluppo creando attività imprenditoriali e formando i lavoratori per rispondere alle esigenze di queste nuove attività. Dobbiamo essere veloci, continuano i Grillini. L'amministrazione ha il dovere di stimolare la regione affinché lo Stato si attivi per far arrivare questi finanziamenti a Gela. Finora abbiamo assistito a tante chiacchiere, tutte puntate su presunti investitori, tanto parlare in attesa che Leni faccia qualcosa, tante parole in attesa del nulla. Dobbiamo cambiare strada, sottolineano i componenti del Movimento 5 Stelle. Dobbiamo diventare i fautori del nostro futuro. Noi gelesi per prima dobbiamo fare imprenditoria nel nostro territorio senza aspettare che altri elargiscano la loro elemosina. Se il lavoro rende davvero liberi, allora abbiamo il dovere di impegnarci per crearlo questo lavoro, senza aspettare che siano altri a portarcelo. La Giunta Messinese non può più nascondersi se attivi presso le istituzioni competenti per avviare le procedure di reperimento dei contributi da far valere sul FEG. Dimostri, continuano ancora i Grillini, di non essere succube del sistema legato all'attesa che Leni conceda qualcosa. Continuiamo ad applicare il programma che abbiamo presentato ai cittadini, coerenti chiudono con il nostro mandato elettorale.